Lidgate trovò sempre più gradevole stare con lei e ora non c'era nessun senso di costrizione. Vi era un delizioso scambio di ascendenti nei loro occhi e ciò che dicevano aveva per loro quell'eccesso di significato che una terza persona può cogliere con una certa sensazione di monotonia. Pure fra loro non c'erano colloqui o osservazioni sommesse da cui una terza persona doveva essere necessariamente esclusa. In effetti amoreggiavano e Lidgate aveva la certezza che non facevano nient'altro. Se un uomo non poteva amare ed essere assennato, certo forse poteva amoreggiare ed essere contemporaneamente saggio. In realtà gli uomini di Middlemarch, tranne Mr. Feather Brother, erano dei gran secatori e a Lidgate non interessavano la politica commerciale o le carte. Cosa doveva fare per distendersi? Veniva spesso invitato dai Balztroda, ma le ragazze di quella casa non avevano neppure finito la scuola e il modo ingenuo di Mrs. Balztroda di conciliare religiosità e mondanità, la nullità di questa vita e la desiderabilità del cristallo, la consapevolezza nel medesimo tempo di stracci sporchi del miglior Damasco non attutivano a sufficienza il peso dell'eterna serietà del marito. La casa dei Vinci, con tutti i suoi difetti, era per contrasto la più piacevole. Inoltre alimentava Rosamond, dolce a guardarsi come una rosa rossa semidischiusa e adorna di doti per il raffinato divertimento dell'uomo. Ma proprio a causa del suo successo con Miss Vinci, egli si creò alcuni nemici, non solo fra i medici. Una sera fece il suo ingresso nel salotto piuttosto tardi, quando vi erano diversi altri ospiti. Il tavolo da gioco aveva attirato i più anziani e Mr. Mad Plymdale, uno dei buoni partiti di Middle March, anche se non una delle sue venti di primo piano, era in un teta-teta con Rosamond. Aveva portato l'ultimo kipsake, la sontuosa pubblicazione in seta da mascata, che registrava le ultime novità di quei tempi, ed egli si considerava assai fortunato a poter essere il primo a dargli un occhiato assieme a lei, soffermandosi sulle signori gentiluomini con guance e sorrisi lucidi color rame e commentando le poesie comiche come eccezionali e le storie sentimentali come interessanti. Rosamond era graziosa e Mr. Ned era soddisfatto di avere il meglio nell'arte e nella letteratura per farle la corte. Proprio la cosa per riuscire gradita a una bella ragazza. Aveva anche buoni motivi, ben radicati più che apparenti, per essere soddisfatto del proprio aspetto. Per un osservatore superficiale, il suo mento aveva una conformazione troppo sfuggente e pareva quasi che venisse gradualmente riassorbito. E infatti gli causava una certa difficoltà ad aggiustarsi la cravattona di raso, per la quale i menti a quel tempo erano utili. «Penso che l'onorevole Mrs. S. è un po' simile a voi», disse Mr. Ned. Tenne il libro aperto alla pagina di quella ammaliante ritratto e lo guardò con aria piuttosto languida. «Ho la schiena molto larga!» «Sembra che abbia posato per questo», disse Rosamond, non intendendo in alcun modo ironizzare, ma pensando come erano rosse le mani del giovane Plymdale e chiedendosi come mai Lydgate non venisse. Per tutto il tempo continuò a fare la chiaccherina. «Non ho detto che sia splendida come voi», disse Mr. Ned, azzardandosi ad alzare lo sguardo dal ritratto alla rivale di questo. «Rispetto che siate un abile adoratore», disse Rosamond, «certa che sarebbe stata costretta a respingere questo giovane gentiluomo una seconda volta». Ma a questo punto entrò Lydgate. Il libro venne chiuso prima che questi raggiungesse l'angolo di Rosamond e come egli si sedette con disinvolta fiducia all'altro lato di lei, la mascella del giovane Plymdale cade come un barometro verso la parte messa del variabile. Rosamond godeva non solo della presenza di Lydgate, ma dei suoi effetti. Le piaceva suscitare gelosia. «Come siete in ritardo?» ella disse, mentre si stringevano la mano. «La mamma qualche momento fa vi ha dato per assente». «Come trovate, Fred?» «Come al solito, procede bene, ma lentamente. Voglio che vada via a Stonecourt, per esempio, ma vostra madre sembra abbia qualcosa in contrario». «Poverino», disse Rosamond con grazia. «Troverete Fred così cambiato», aggiunse, voltandosi verso l'altro corteggiatore. «Durante la sua malattia ci siamo rivolti a Mr. Lydgate come al nostro angelo custode». Mr. Ned sorrise nervosamente, mentre Lydgate, tirato il kipsa che verso di sé è apertolo, scoppiò in una breve risata sdegnosa e buttò in alto il mento come stupito della folia umana. «Di cosa state ridendo così sacrilegamente?» disse Rosamond con mita indifferenza. «E chiedo cosa si rivelerebbe più stupido, ciò che è inciso o ciò che è scritto qui dentro», disse Lydgate con un suo tono più convinto, mentre sfogliava le pagine rapidamente, dando l'impressione di leggere tutto il libro in un attimo e mostrando le sue grandi mani bianche in modo da metterne in evidenza i pregi, come pensò Rosamond. «Guardate, guardate questo sposo che esce dalla chiesa. Avete mai visto una simile invenzione zuccherosa? Come sollevano dire gli elisabettiani? Un qualsiasi merciaio ha mai mostrato un sorriso così compiaciuto? Eppure sono pronta a scommettere che nel racconto è uno dei primi gentiluomini del paese». «Siete così, se è vero. Mi fate paura», disse Rosamond moderando il proprio spasso come si conviene. Il povero giovane Plymdale si era soffermato pieno di ammirazione proprio su questa incisione e il suo spirito ne fu scosso. «Ci sono molte persone famose che scrivono nel Kipsake ad ogni modo». Egli disse in un tono a un tempo indispettito e timido. «Questa è la prima volta che sento qualcuno chiamarlo stupido». «Penso che ci volteremo verso di voi e vi accuseremo di essere un vandalo», disse Rosamond guardando Linkgate con un sorriso. «Sospetto che non si pette nulla di Lady Blessington e di L.I.L.» La stessa Rosamond trovava abbastanza di proprio gusto queste scrittrici, ma non si lasciava prendere da una vera ammirazione e faceva attenzione al minimo accenno a qualcosa che non fosse, secondo Linkgate, del più genuino buon gusto. «Sir Walter Scott, suppongo che Mr. Lydgate lo conosca», disse il giovane Plyndale un po' rincorato da questo vantaggio. «Non leggo più letteratura ora», disse Lydgate, chiudendo il libro e spingendolo lontano. «Quando ero un ragazzo ho letto tanto che penso che mi basterà per tutta la vita. conoscevo le poesie di Scott a memoria». «Mi piacerebbe sapere quando avete smesso», disse Rosamond, «perché allora potrei essere certo di sapere qualcosa che voi non ignorate». «Mr. Lydgate direbbe che non vale la pena di saperlo», disse Mr. Ned, volutamente caustico. «Al contrario», disse Lydgate senza mostrarsi offeso, ma sorridendo con fiducia esasperante alla volta di Rosamond. «Varrebbe la pena di saperlo per il fatto stesso che Miss Vincy potrebbe dirmelo». Il giovane Plymdale ben presto andò ad osservare i giocatori di Whist, pensando che Lydgate era una delle persone più presuntuose che avesse mai avuto la mala sorte di incontrare. «Come siete sconsiderato», disse Rosamond, assai compiaciuta in cuor suo. «Non vi accorgete di offendere?» «Cosa? E il libro di Mr. Plymdale?» «Me ne duele, non ci ho pensato». «Comincerò ad ammettere quello che diceste di voi la prima volta che siete venuto qui, che siete un urso e che avete bisogno di essere educato dagli uccelli». «Beh, c'è un uccello che può insegnarmi quello che vuole». «Non l'ascolto volentieri, forse?» A Rosamond sembrava di essere praticamente fidanzata con Lydgate. Che si dovessero fidanzare prima o poi era un'idea che aveva da lungo in testa, e le idee, lo sappiamo, tendono a un genere di esistenza più concreta quando il materiale è necessario a portata di mano. È vero, Lydgate aveva l'idea opposta di non fidanzarsi, ma questa era una semplice negazione, un'ombra gettato da altri progetti che a loro volta potevano indebolirsi. Quasi sicuramente le circostanze favorivano l'idea di Rosamond, che si dava da fare a plasmare le cose e osservava con occhi azzurri e attenti, mentre quelli di Lydgate erano ciechi e disinteressati, come una medusa che si squaglia senza accorgersene. Quella sera, quando arrivò a casa, osservò con interesse indisturbato le sue fiale, per vedere come procedeva un processo di macerazione, e scrisse le sue notazioni giornaliere con la consuetà precisione. Le fantastiche re da cui gli era difficile staccarsi erano costruzioni ideali fatte di qualcosa di diverso, dalle virtù di Rosamond, e il tessuto primitivo del corpo umano era ancora la sua bella sconosciuta. Per di più stava cominciando a provare un certo gusto per il crescente, anche se quasi soffocato, antagonismo fra lui e gli altri medici, che era probabile si manifestasse maggiormente ora che il metodo di Balstrod di dirigere il nuovo ospedale era sul punto di venire comunicato. e vi erano vari segni incoraggianti che il rifiuto opposto lì da alcuni dei pazienti di Peacock fosse compensato dall'impressione che gli aveva suscitato in altri ambienti. Solo alcuni giorni dopo, quando gli era capitato di raggiungere Rosamond sulla strada di Lowick, ed era smontato dal proprio cavallo per camminare al fianco e proteggerla così da una mandria di passaggio, era stato fermato da un servo a cavallo con un messaggio che lo convocava a una casa di una certa importanza dove Peacock non aveva mai assistito alcun malato ed era il secondo caso di questo genere. L'uomo faceva parte della servitù di Sir James Chetton e la casa era Lowick Manor. Capitolo 28 Mister e Mrs. Kezabo, di ritorno dal loro viaggio di nozze, arrivarono a Lowick Manor a metà gennaio. Stava nevitando leggermente quando scesero alla porta e al mattino, quando Dorotea passò dal suo spogliatoio nel salutino verde-azzurro di cui sappiamo, vide il lungo viale di tigli che si levavano col tronco dalla terra bianca e stendevano rami bianchi contro il cielo grigio immobile. La piana distante si era contratta in un biancore, sotto basse nubi uniformi. Lo stesso mobiglio della stanza sembrava essersi contratto da quando l'aveva visto l'ultima volta. Il cervo dell'arazzo sembrava più simile a uno spettro nel suo mondo spettrale verde-azzurro. I volumi di letteratura raffinata nella libreria sembravano più simili a imitazioni immobili di libri. Il fuoco luminoso di rami di quercia che bruciavano sugli alari sembrava un importuno rinnovarsi di vite di splendore. Come la figura di Dorotea stessa mentre entrava con gli astucci di pelle rossa contenenti i cammei terceglia. Dopo la toiletta matutina era splendida come solo la giovinezza sana può splendere. Vi era una luminosità gemea nella sua chioma pettinata, crocchia e nei suoi occhi castani. Nelle sue labbra vi era una vita calda e rossa. La sua gola aveva un biancore vivo sopra il biancore diverso della pelliccia che sembrava essa stessa volgersi attorno al suo collo aderire al mantello blu-grigio con una tenerezza presa da lei stessa. Un'innocenza sensibile e armoniosa che conservava la propria bellezza a confronto della purezza cristallina della neve all'esterno. Mentre posava gli astucci dei cammei sul tavolo del bovindo tenne consapevolmente le mani su di essi immediatamente assorta a guardare il terreno cintato e bianco immobile che costituiva il suo mondo visibile. Mister Chesabo, che si era alzato presto accusando delle palpitazioni era nella biblioteca a ricevere il suo coadiutore Mister Tache. Da momento all'altro sarebbe arrivata Celia nella sua qualità di damigella d'onore, oltre che di sorella e per le settimane seguenti avrebbe ricevuto e ricambiato visite per il matrimonio. Tutto come se quella di quel periodo transitorio che si riteneva corrispondesse all'eccitazione della felicità annunziale e allo scopo di conservare il senso di attiva vacuità come di un sogno di cui chi sogna comincia a sospettare. I doveri della sua vita coniugale, considerati così grandi in precedenza, sembravano incontrarsi assieme al mobiglio e al paesaggio bianco cintato di vapore. Le chiare sommità dove si attendeva di camminare in piena comunione erano divenute difficili da vedere anche nell'immaginazione. Il delizioso abbandono dell'anima, una persona completamente superiore, era stato scosso per compiere uno sforzo imbarazzato e emesso in allarme da un oscuro presentimento. Quando sarebbero iniziati i giorni di quell'attiva dedizione da sposa che avrebbe dovuto rafforzare la vita del marito ed elevare la sua? Mai, forse, come se li era immaginati, ma in qualche modo, tuttavia in qualche modo. In questa unione della sua vita, solennemente promessa, il dovere si sarebbe presentato sotto una nuova forma di ispirazione e avrebbe dato un nuovo significato all'amore emolliebre. Frattanto c'era la neve e il basso arco di vapore grigio. Vi era l'oppressione soffocante del mondo di quella signora, dove tutto veniva fatto per lei e nessuno chiedeva il suo aiuto, dove il senso di un legame con una fertile esistenza multiforme e doveva venire conservato dolorosamente come una visione interiore, invece di provenire dall'esterno con richieste che avrebbero plasmato le sue energie. «Cosa devo fare? Qualunque cosa vi aggrada, cara!» Questa era stata la sua breve storia da quando aveva interrotto le lezioni matutine e aveva smesso di esercitarsi con ritmi stupidi sull'odiato pianoforte. Il matrimonio, che doveva fare da guida a una degna e imperativa occupazione, non l'aveva ancora liberata dall'opprimente libertà tipica della gentildonna. Non aveva neppure riempito il suo tempo libero della gioia meditativa e di una tenerezza senza freni. La sua fiorente giovinezza dal palpito pieno se ne stava lì, in una prigionia morale che faceva tutt'uno col paesaggio gelido, incolore, ristretto, col mobilio contratto, i libri mai letti e il cervo spettrale, in un pallido mondo fantastico che sembrava stesse svanendo dalla luce del giorno. Nei primi minuti in cui Dorotea guardò fuori, non provò nulla se non una spaventosa oppressione. Poi giunse un intenso ricordo e distolti gli occhi dalla finestra fece il giro della stanza. Le idee e le speranze che vivevano nella sua mente quando aveva visto per la prima volta la stanza quasi tre mesi prima ad esserano presenti solo come ricordi. Le giudicava come si giudicano le cose transitorie scomparse. Tutta l'esistenza sembrava battere di una pulsazione più lenta della sua e la sua fede religiosa era un grido solitario, la lotta per uscire da un incubo in cui ogni oggetto passiva e si contraeva allontanandosi da lei. Ogni cosa che ricordava della stanza era priva di incanto, era smorzata come una trasparenza non illuminata, finché il suo sguardo vacante giunse al gruppo di miniature e qui infine vide qualcosa che aveva acquistato nuova vita e significato. Era la miniatura della zia di Kezabo, Giulia, che aveva fatto quel matrimonio infelice, la nonna di Will Ladislav. Dorotea poteva immaginarsela viva ora, il delicato volto femminile che conservava un aspetto ostinato, una caratteristica difficile da interpretare. Erano stati soli i suoi parenti che avevano considerato sfortunato il matrimonio, oppure lei stessa si era resa conto che era un errore e aveva assaporato l'amarezza salata delle proprie lacrime nel pietoso silenzio della notte. Quali vastità di esperienza Dorotea sembrava avere attraversato da quando aveva osservato questa miniatura per la prima volta. Provò un nuovo senso di amicizia per essa, come se le porgesse l'orecchio e potesse vedere come la stava guardando. Ecco una donna che aveva conosciuto una certa difficoltà nel matrimonio. Anzi, i colori diventerò più intensi, le labbra e il mento parvero diventare più grandi, la chioma e gli occhi parvero emettere luce, il volto divene mascolino, e le sorrideva radiosamente con quello sguardo pieno che dice a Colea, la quale ha il diretto, che essa è troppo interessante perché il sia pur minimo un vivimento del suo ciglio passi inosservato e non interpretato. La vivida rappresentazione giunse a Dorotea come un piacevole bagliore. Se accorse che stava sorridendo e distolto lo sguardo dalla miniatura si sedette e alzò gli occhi come se stesse ancora parlando con una figura dinnanzi a lei. Ma il sorriso scomparve, mano a mano che proseguiva a meditare, alla fine disse ad alta voce «Oh, è stato crudele parlare così, con me triste, con me terribile!» Si alzò in fretta e uscì dalla stanza, affrettandosi lungo il corridoio, con l'impulso irresistibile di andare a vedere il marito e chiedergli se poteva fare qualcosa per lui. Forse Mr. Tucker se n'era andato, il Mr. Keesab era solo nella biblioteca. Immaginava che tutta la tristezza di quel mattino sarebbe svanita se avesse potuto vedere il marito felice per la presenza di lei. Ma quando raggiunse la cima della scura scala di quercia, ecco Celia che saliva e da basso c'era Mr. Brooke che scambiava frasi di benvenuti e di congratulazioni con Mr. Keesab. «Todo!» disse Celia col suo tranquillo tono distaccato. Poi baciò la sorella che l'abbracciò e non disse altro. Credo che entrambe piangessero in modo un po' furtivo mentre Dorotea scendeva le scale di corsa per salutare lo zio. «Non c'è bisogno che ti chieda come stai, cara!» disse Mr. Brooke dopo averla baciata in fronte. «Roma ti ha giovato, vedo. Felicità, freschi, le antichità, quel genere di roba lì!» «Beh, è molto bello averti di nuovo qui e adesso capisci tutto dell'arte, eh?» «Ma Keesab è un po' pallido, gliel'ho detto, un po' pallido, capisci? Studiare il sodo durante le vacanze è un po' troppo. Una volta ho strafatto anch'io.» Mr. Brooke stringeva ancora la mano di Dorotea «Ma si era voltato verso Mr. Keesab per la tipografia, le rovine e i templi. Pensavo di aver trovato la strada buona, ma mi accorsi che mi avrebbe portato troppo lontano e non se ne sarebbe ricavato nulla. Si può procedere quanto si vuole in questo genere di cose e può darsi che non ne venga fuori niente, sapete?» Anche gli occhi di Dorotea erano rivolte alla faccia del marito con una certa ansia all'idea che coloro che lo vedevano di nuovo, dopo l'assenza, potessero intravedere dei segni che lei non aveva notato. «Non c'è da allarmarsi, mia cara!» disse Mr. Brooke, osservando l'espressione di lei. «Un po' di castrato e di manzo inglese lo faranno subito cambiare. Avete fatto benissimo ad avere quello sguardo palido per posare per il ritratto dell'Aquinate, sapete? abbiamo ricevuto la vostra lettera proprio in tempo. Ma l'Aquinate ora era un po' troppo sottile, non vi pare? Qualcuno legge l'Aquinate oggi?» «In effetti non è un noto radatto ad elementi superficiali», disse Mr. Kesebo, rispondendo a quelle opportune domande con unitosa pazienza. «Vorreste prendere il caffè nella nostra stanza, zio?» disse Dorotea, venendogli in soccorso. «Sì, e tu devi andare da Celia. Ha delle grosse notizie da raccontarti, sai? Le lascio tutte a lei!» Il salutino verde-azzurro parve molto più allegro quando Celia, con un mantello esattamente uguale a quello della sorella, si fu seduta e si mise a osservare i cammei, con tranquilla soddisfazione mentre la conversazione passava ad altri argomenti. «Pensi che sia bello andare a Roma in viaggio di nozze?» chiese Celia, col suo pronto e delicato rossore a cui Dorotea era abituata per il minimo incidente. «Non sarebbe andato a tutti, non a te, cara, per esempio», disse Dorotea, tranquilla. Nessun avrebbe mai saputo quello che pensava di un viaggio di nozze a Roma. «Mrs. Cadwell Welder dice che è un'assurdità che della gente faccia un lungo viaggio quando è sposata. Dice che si stancano da morire l'uno dell'altra e non possono litigare a proprio agio come farebbero a casa. E lei di Chetam dice che lei andò a Buff!» Il colorito di Celia cambiava continuamente e sembrava andare e venire con notizia dal cuore, come se fosse stato un messaggero in corsa. Doveva voler dire qualcosa di più del consueto rossore di Celia. «Celia, è accaduto qualcosa?» chiese Dorotea con un tono pieno di affetto per la sorella. «Hai davvero una grossa notizia da comunicarmi?» «È stato perché te ne sei andata, Dodo?» «Allora non c'è rimasto nessuno tranne me e con cui Sir James potesse parlare», disse Celia con una certa aria da berbante negli occhi. «Capisco. È come speravo e credevo», disse Dorotea premendo il volto della sorella a far le papre mani e guardandola con aria, per metà ansiosa. Il matrimonio di Celia sembrava più serio di quanto le fosse sembrato prima. «È stato solo tre giorni fa», disse Celia, «e lei dice che a me è assai gentile e sei felice?» «Sì, non abbiamo ancora intenzione di sposarci, perché bisogna preparare tutto e io non voglio sposarmi così presto perché penso che sia bello essere fidanzati e dopo saremo sposati per tutta la vita». «Credo davvero che non potresti sposare una persona migliore, Kitty. Sir James è un uomo buono, onorato», disse Dorotea con calore. «È andato avanti con il cottage, Dodo. Te ne parlerà quando verrà, sarai lieta di vederlo». «Certo che lo sarò, come puoi chiedermelo?» Temevo solo che diventassi così saputa, disse Celia, che considerava il sapere di Mr. Kesavo una specie di umidità che col tempo poteva saturare un corpo vicino.